Siamo questa serata, buonasera a tutti, io sono Marco Imperadori e sono un professore del Politecnico di Milano e stasera avremo qui Diabolic con noi, potrebbe già essere qua, non lo vediamo, magari è mascherato, allora per farci aiutare abbiamo qui Mario Gomboli che è l'anima di Diabolic, storico soggettista del fumetto del re del terrore e per noi è un grande onore Mario, Mario ha studiato al Politecnico, è alumnus del Politecnico, laureato in architettura qualche anno fa, esattamente 50 anni fa, nel 72, quindi visto che celebriamo il sessantesimo di Diabolic anche il cinquantesimo del tuo studio qua, no, per noi è un grande onore, un applauso, l'idea di invitarlo nasce dal progetto appunto Cultura Polimi, Made in Polimi, di avere qui tra noi delle testimonianze di grandi personaggi che sono passati in questo Ateneo, alcuni di questi hanno avuto delle carriere all'interno dell'alveo di design, ingegneria o architettura, urbanistica, altri, altre carriere, Elio e le storie tese ha studiato da noi, Edoardo Bennato, non so se lo sapete, si è lavorato da noi e Mario Gomboli è passato da noi, quindi facciamo un evento 11 anni fa Diabolitecnico di cui vedrete passare una bellissima copertina di quella che venne studiata con Diabolic misura di tutte le cose, Vitruviana, e poi vedete scorrere qui dietro delle immagini perché mentre adesso facciamo dire qualcosa a Mario abbiamo deciso di farvi vedere un po' come in questo fumetto straordinario, ecco che questo imprinting un po' politecnico di design, architettura, ingegneria e urbanistica perché c'è anche Clervil con la mappa geografica insomma, sia molto presente. Quindi Mario dici qualcosa in questo sessantesimo straordinario di un fumetto che... Ma di tutto secondo me Diabolic è una laurea onoris causa da Politecnico, se l'è meritata in tutti questi anni. No, va detto che Diabolic ha sempre spaziato in campi diversi grazie alle Giussani che sono le due creatrici, Angela e Luciana del personaggio e che erano sempre curiose del mondo e cooptavano nella redazione persone come il sottoscritto, come Corbetta che faceva ingegneria chimica qui, che fornissero delle informazioni, dei suggerimenti, degli spunti per le storie. Io ho cominciato così, cioè le prime storie di Diabolic le ho scritte qui al Politecnico nell'Aulea di Chimica perché io non... avrei dovuto seguire i corsi ma non l'ho mai fatto e odiavo la chimica. E quindi con Alfredo Castelli, Alfredo Castelli per chi non lo sapesse, è Martin Mister, gli aristocratici, Domino Buffo, forse il più grande fumettista che ci sia oggi in Italia e che già allora lui, è stato lui a presentarmi alle sorelle Giussani, gli faceva Scheletrino che era presa in giro di Criminal che era un concorrente di Diabolic e con lui scrivemmo i soggetti. Io grazie a Diabolic mi sono pagato all'università, mi sono pagato la mia prima macchina, quindi devo molto al re del terrore. Poi ho fatto un po' di tutto, ho fatto poco all'architetto, un po' i designer, graphic design soprattutto, poi ho fatto l'autore di libri per bambini, prima qualcuno mi ha portato un libro, dei tanti 160 ne ho firmati, in cui facevo anche le illustrazioni. Lo zopazzo era quello che hai firmato prima, no? E lo zopazzo. E luporosso anche. Luporosso, beh qualcuno che magari ha avuto i figli che hanno avuto in mano i miei libri. E poi comunque una ventina d'anni fa, sì un po' di più, fine anni 90, la Luciana Giussani che era l'ultima delle due sorelle, l'altra se n'era andata nell'87, prima di andarsene mi ha richiamato a portare avanti quella che lei chiamava la sua avventura. E quindi sono diventato poi direttore responsabile e continuo a essere lì. Finché continuo a divertirmi, continuerò a scrivere le storie di Epoly perché vi garantisco che ho, ecco ho avuto una fortuna nella mia vita, che ho sempre fatto tanti lavori diversi e mi sono sempre divertito a farli e ciò nonostante mi sono anche mantenuto, per cui alla fine ho preso due piccioni e una fama. E E di Epoly che è ancora adesso, per certe cose, soprattutto di ideazione di nuove storie, un lavoro che mi diverte, che mi stimola. Ci racconti come nasce un po', dov'è che lo... inizia una storia? Io un po' lo so anche dove vai a mangiare ogni tanto. Ma sai, prima di tutto... Di Epoly è un prodotto molto anomalo rispetto alla media dei fumetti, no? Non può essere definito un prodotto d'autore. Di Epoly che è un prodotto collettivo. A Monte c'è sempre, ovviamente, un soggetto, cioè la storia, il racconto, che nasce a volte da uno spunto di qualsiasi genere, che può essere anche... è capitato che dei lettori proponessero addirittura delle storie. Poi, naturalmente, non essendo professionisti, magari era gestita male l'idea, ma l'idea è quella che più serve, soprattutto con 900 episodi alle spalle e 60 anni di storia, no? Cioè trovare ogni mese un'idea nuova è forse la parte più impegnativa. Partendo da questa idea, poi viene sviluppata in genere da professionisti come Sottoscritto, come Pasini, come Tito Faraci, che la trasformano in un racconto vero e proprio, mediamente, per capirci, una dozzina di cartelle di testo. Alcuni dei miei racconti, cioè dei miei soggetti, sono stati poi raccolti anche in un volume che spiega più o meno quello che vi sto raccontando in due parole. E da questo poi ci sono una serie di controlli incrociati e arricchimenti incrociati. Per esempio, io sono quello che tradizionalmente inventa le fughe, i colpi, i trucchi di Diabolik. Per cui, anche se il soggetto è scritto da un altro, a un certo punto, a pagina 3, in basso a sinistra, è scritto Gomboli, qui mi devi inventare una fuga. I coordinati sono queste. È la Jaguar su una strada di campagna di notte. E appunto, devo andare a vedermi tutte le fughe che ho già inventato, a vedere se ne invento una nuova. Perché poi i fan sono severi. Allora, i fan di Diabolik sono una virrazza dannata cui nulla sfugge. I professori e il Politecnico al confronto è una persona approssimativa. Veramente, se per caso, perché poi io mica me le ricordo tutte, no? Onestamente. C'è un database a cui faccio riferimento, ma non è efficace fino in fondo. E se per caso viene ripresa un'idea già esistente, veniamo sommersi da lettere, mail, insulti. Ah, copiate da voi stessi, che già è meglio di copiare dagli altri, comunque copiate, non avete più idee, siete ridotti all'unicino. Quindi c'è anche questo passaggio qui. E quindi c'è l'arricchimento della storia con una serie di dettagli. Poi c'è la documentazione, perché in certi casi al disegnatore viene data libertà d'azione, i disegnatori sono, appartengono categorie diverse. Tiziano Sclavi, quello di Andol, per capirci, ama ripetere che i disegnatori non sono gente sicca. Nel senso che non ci si può fidare di disegnatori. Essendo degli artigiani professionisti e ovviamente legati a una produzione intensiva di tavole, di vignette, a volte tendono a essere un po' approssimativi. Per intenderci, se hai un rifugio di diavolic e scrivi semplicemente in sceneggiatura una villetta a schiera, oppure una villetta nel bosco, il risultato non è da architetto, ma è una scatola a scarpe col tetto spiovente, per capirci. Al massimo può avere un paio di gradini per accedere alla porta d'ingresso, che spesso invece ha arco, però quando la si vede dall'interno è dritta. Allora viene data documentazione ai disegnatori. Ora ci sono persone come era Seggio Zaniboni, appassionate di design che ti mettevano dentro l'arco di Castiglioni o la taccia in tutti gli arredi interni delle... Le abbiamo viste passate. Le vedrete scorrere alle mie spalle, no? Oppure come Giuseppe Di Palumbo, che tra l'altro è laureato in archeologia e che è quello che ha messo la casa di Alvaralto, cioè uno dei progetti di Alvarado, in un fumetto. Anche quello. Io mi ricordo quando, con Zaniboni, gli dì le fotografie della casa sulle cascate per un rifugio di Diabolic. A questo tra l'altro... Apro una parentesi perché è curioso questo fatto. Allora stiamo parlando, se ricordo bene, del 74, 73-74. Mi ero appena laureato, spesso fornivo del materiale che avevo accumulato qui facendo architettura ai disegnatori per avere le documentazioni. E ci fu il caso della casa di Alvarado. Diabolic ha un alter ego che si chiama Parker, scritto da Richard Stark, che nasce... Sono dei libri più che cianlli, neri. Nasce nel 62 come Diabolic negli Stati Uniti. Come Diabolic al terzo episodio incontra questo Parker, la donna della sua vita. E una serie di coincidenze, adesso non lo sto a elencare, ma sono tante. E teniamo presente che le sorelle Giussani non hanno mai letto i gialli di Parker. Io l'ho regalato alla Luciana tutta la collezione e quando se n'è andata, tra i vari libri che mi ha lasciato, c'era quella collezione in tonsa. Quindi una serie di coincidenze. tra queste c'è il fatto che nel 74 esce un diabolic ambientato alla casa delle cascate e esce un romanzo di Stark dove Parker si rifugia nella casa delle cascate. La casa delle cascate, tra l'altro, che mentre nel fumetto non è chiaramente citato Wright, ma è ancora perfetta, nella realtà dei fatti è stata abbandonata e quindi semidistrutta. Infatti Parker, che è anche lui un ladro come diabolic, si rifugia lì perché è un posto dove non andrà mai nessuno. E ho scoperto che è vero, la casa non è un monumento nazionale. Non è però di recente stata ripresa, ha avuto un periodo di... Ma nel 74 era abbandonata. E infatti probabilmente Stark, appassionato anche lui di architettura, aveva citato questo fatto per dire vergogna, vergogna, eccetera. Ho fatto un inciso, torno a Bobba. Dicevo, la documentazione è fornita al disegnatore che a quel punto si trova in mano una serie di fotografie, disegni, schizzi. Io spesso faccio degli schizzi e mi serve, infatti ho fatto l'architettura per spiegare certi ambienti, certe situazioni. E la sceneggiatura. Cos'è la sceneggiatura? La sceneggiatura è la divisione della storia in vignette con i dialoghi e una descrizione a volte dettagliata, a volte approssimativa, perché è inutile dire tutte le volte visto da sinistra, visto da destra. Stessa situazione, cambia in quadratura. E che il disegnatore deve seguire. Ecco, Diaboli, come dicevo prima, è un prodotto molto come dire, imbalsamato. C'è poca libertà d'azione per il disegnatore. Se c'è scritto che a pagina 3, vignetta 2, all'interno dell'appartamento si vede una bottiglia di whisky è perché poi a pagina 70 quella bottiglia di whisky verrà usata per dare la sua testa a qualcuno. E quindi è importante che il disegnatore lo sappia. sempre perché i disegnatori non sono gente non è che uno può limitarsi a dire disegnami una bottiglia di whisky ma, attenzione, disegni una bottiglia di whisky che poi è la stessa e tornerà a pagina 60 perché se non glielo scrivi a pagina 3 ti mette una bottiglia di Johnny Walker a pagina 60 ti mette una bottiglia di un altro whisky o addirittura di cognac o di 20. detto questo vengono fatti i disegni a matita perché? perché sempre a differenza di altri fumetti Diabolic ha in genere un matitista e un inchiottatore due figure diverse la cosa nacque a suo tempo e sto parlando di metà degli anni 60 quando Diabolic divenne quindicinale anzi quattordicinale per uscire sempre di venerdì da mensile che era. Allora, non esiste una persona al mondo un disegnatore per quanto veloce sia che può produrre 120 tavole ogni 14 giorni con una media di 10 al giorno e neanche il tempo per fare app. Quindi, evidentemente era nata l'esigenza di avere più mani più mani che però una delle cose per cui di Giussani sono sempre state molto preoccupate e quindi attente era il mantenere l'immagine di Diabolic l'aspetto fisico di Diabolic è fondamentale pensate che adesso quegli occhiacci che voi vedete anche sulla mia spilletta e che tutti conoscono sono diventato un marchio registrato quell'attenzione a mantenere una coerenza grafica anche cambiando disegnatore è sempre stata una una scelta ben precisa delle due autrici e quindi qual'era la soluzione? Avere due mani uno che faceva tutti i disegni di matita e magari faceva un Diabolic un po' più cicciotto un po' più basso oppure più muscoloso Diabolic ha sempre avuto un tipo di fisico da sportivo da nuotatore no? Johnny Weissmuller quello che faceva Tarzan negli anni 50 era il il campione da utilizzare dato ai disegnatori e poi un inchiostratore Tarzan quello che faceva Tarzan quello che faceva Tarzan Tarzan sì sì l'inchiostratore che invece uniformava il tratto dei vari matitisti in modo di avere una coerenza grafica questo tipo di meccanismo anche se non sempre vale ancora oggi e per gli stessi motivi perché inevitabilmente per motivi anagrafici i disegnatori sono avvicendati no? molti sono andati a disegnare fumetti per il buon dio e l'ultimo quest'estate è stato Enzo Facciolo che aveva cominciato a disegnare nel 63 pensate l'impiccato il numero 10 di Diabolic e ha continuato con dei periodi in cui ha fatto altro perché poi era anche un bravissimo illustratore comunque è andato avanti fino all'ultimo perché l'ultimo episodio che ha disegnato anche se poi inchiostrato da altri è uscito a gennaio di quest'anno e è andato che aveva 90 anni insomma disegnava ancora dicevo comunque questa logica di avere più mani è quella che permette a Diabolic ancora oggi di avere un'uniformità estetica abbastanza dico abbastanza perché è impossibile annullare la creatività di chi ha la matita o la penna in mano o il pennino o il pennarello o la tavoletta grafica a volte in certi casi però diciamo che Diabolic rispetto ad altri fumenti è quello sicuramente con una linea estetica uniforme e continua assolutamente e poi niente a quel punto ovviamente tutti questi passaggi prevedono che venga riletto corretto verificato controllato a questo punto si dovrebbe poter andare in stampa tranquilli dico si dovrebbe perché c'è sempre qualcuno che all'ultimo momento gli viene il dubbio ma non è che quella roba lì il dubbio no il dubbio classico nelle storie di Diabolic perché il meccanismo io spero che che magari qualcuno qualche Diabolic l'abbia anche letto visto perché le storie di Diabolic sono dei meccanismi molto complessi no? io lo chiamo il bilancino cinese avete presente i mobile no? che se sposti un pezzo perde l'equilibrio e quindi capita volta che a storia finita ti si renda conto che c'era una situazione in cui ma perché Diabolic è passato da faccia ed difficile attraverso l'inutile poteva aprire la porta invece che arrampicarsi sul tetto e poi scendere dalle grondaie no? e a quel punto allora all'ultimo momento si cavia qualche dialogo da qualche parte per giustificare il fatto che la porta era allarmata e ce la caviamo con Mario tu hai citato prima questo numero 3 no? in cui compare questa straordinaria figura che è Eva e giustamente visto che è un fumetto che nasce da due donne tra l'altro è il centenario di Angela Giussani quest'anno sarebbe il 1922 quindi questa figura femminile in quegli anni negli anni sessanta estremamente emancipata e non ha fatto succube diciamo dell'eroe maschio no? eccola vediamo e tra l'altro visto che quest'anno è stato fatto un film straordinario anche la figura femminile nel film Miriam Leone è stata bravissima e gli tempi tu dicevi prima i tempi del fumetto e i tempi del film quindi partiamo da Eva e poi parlaci un po' di questo film Eva cioè Diabolik è ricostruibile l'origine diciamo culturale di Diabolik no? Diabolik è figlio di Fantomas Locambola Arsène Le Pen cioè tutto il frayton francese inizio del secolo scorso di cui Angela Giussani era grande lettrice e quindi possiamo capire da dove viene praticamente erano delle storie che invece di essere ambientate con le carrozze e i posticci teatrali arriva Diabolik che ha la Jaguar E-Type e le maschere di plastica Eva Kant no Eva Kant non ha un precedente come dico sempre se pensiamo a quelle che erano le figure femminili del fumetto ma anche del cinema della letteratura di genere all'epoca c'era sempre l'eroe di turno non necessariamente super comunque l'eroe di turno con accanto una bellissima fanciulla che si metteva nei guai così arrivava l'eroe e la salvava nel numero 3 Diabolik è nei guai arriva Eva e gli salva la pelle glielo ricorderà poi più avanti quando lui la tratta un po' da ragazzina cioè quindi un capovolgimento di ruoli che come dico sempre soltanto due donne potevano inventare non c'era arrivato nessuno né prima né per parecchio tempo dopo perché per trovare delle figure femminili così definite così forti dobbiamo arrivare ai fumetti erotici della seconda metà degli anni sessanta e comunque non sarebbe la stessa domanda perché poi la forza di Eva è proprio anche il fatto che è una donna forte è una donna di carattere con un passato abbastanza turbolento accusata di aver ucciso il marito è stata spia industriale ne ha fatti di ogni però è è femminile non è un maschiaccio ecco Eva non è un maschiaccio non è la versione femminile di Diabolik è un'altra cosa è complementare Diabolik e questo è importante sotto molti motivi uno dei quali è importante per me cioè per me è chi fa il mio mestiere perché se riusciamo ancora a inventare delle storie nuove dopo 900 episodi e anche grazie al fatto di avere dei personaggi così ben strutturati sin dall'inizio costruiti bene dalle sorelle al punto di poterli gestire di volta in volta in maniera originale perché sono umani sono veri non sono super da nessun punto di vista Diabolik può morire può ferirsi Eva pure possono arrabbiarsi possono litigare non sono tagliati giù con l'accetto questo è molto importante e il film per tornare a noi che è ispirato appunto al numero 3 con molte variazioni ovviamente che poi magari spero che qualcuno l'abbia visto qualcuno l'ha visto? ah ecco avrà riconosciuto anche il giudice che lo condanna che è lui nel nome del popolo di Clairville questa corte dichiara l'imputato colpevole allora dicevo il film è ispirato al numero 3 con non poche variazioni ovviamente perché nel numero 3 per esempio Diabolik non lancia mai il pugnale e non puoi fare un fisso Diabolik senza il lancio del pugnale no? non c'è la Jaguar ma come? Diabolik senza Jaguarità è come se non avesse le mutande sotto la tuta e quindi abbiamo arricchito qua e là non c'è un colpo nel numero 3 e quindi siamo inventati questo colpo nella banca mezzo subacqua ciò detto lo spirito di fondo è rimasto uguale cioè c'è il primo incontro tra Diabolik e Eva questo amore che esplode irrazionale e per una persona fredda e cinica e razionale come Diabolik e come Marinelli l'ha rappresentato forse anche troppo nel film il fatto di avere un momento di passione è decisamente uno shock abbandona la sua prima fidanzata Elisabeth che è la Serena Grandi Serena Rossi nel film e passa con Eva che gli salva la pelle anche la fuga dal carcere di Diabolik rispetto alla storia originale l'abbiamo modificata perché perché ci sono delle ingenuità nei fumenti degli anni sessanta che all'epoca erano tollerabili e oggi suonerebbero molto poco credibili cioè nella storia originale Eva corrompe i secondini che portano fuori dal carcere Diabolik il criminale più ricercato al mondo quello per cui si è fatto un processo che era un momento mediatico e tutto il resto basta dare cinquanta mila lire perché all'epoca era la cifra a due secondini e questi il piano Diabolik lo portano a incontrare Eva in una specie di casino di caccia no abbiamo modificato anche quella parte lì ma lo spirito di fondo cioè quello che Eva grazie alle indicazioni di Diabolik e al suo coraggio riesce a liberare Diabolik dal carcere e sostituirlo con una figura odiosa che si chiama Caron che ricattava Eva che era anche un po' così nel film più di quanto non fosse nel fumetto di mano lunga ecco diciamo e quindi sulla ghigliottina finisce questo qui che è un grande soddisfazione all'epoca dei lettori e attualmente mi auguro degli spettatori del film al cinema o in DVD perché adesso si trova anche in DVD questa settimana credo che sia o la prossima con grazia nelle edicole con grazie la rivista che sia un'operazione particolarmente elegante E la reazione dei fan al film? La reazione dei fan come è stata? C'è una divisione netta perché i tempi sono tempi diversi rispetto ad altri film sono stati studiati un 70-30 direi c'è un 70% che l'ha amato e un 30% che l'ha odiato chi l'ha odiato è perché si aspettava un'altra cosa si aspettava un Diabolik più alla Marvel io prima ho firmato da una persona molto gentile un volume di D.K. D.K. è un esperimento che fece anni fa un Diabolik un altro Diabolik altro da se stesso che vive in un mondo diverso a un ritmo narrativo più alla Marvel ecco forse qualcuno si aspettava di vedere un Diabolik molto più di azione con un ritmo narrativo molto legato a Mission Impossible piuttosto che 007 invece la scelta estetica e filosofica dei Manetti è stata quella di riprendere i ritmi narrativi degli anni 60 quindi più lenti più attenti ai dettagli e meno ai colpi di scena con il rischio in certi passaggi di essere un po' pedanti un po' noiosi ma a mio parere molto rispettoso di quello che era il fumetto filologicamente filologicamente impeccabile la ricostruzione delle cose degli oggetti delle automobili degli ambienti molto molto curata certo impossibile fare tutto esattamente no? qualcuno ha criticato il fatto che a un certo punto si vede la spazzatura dentro i sacchi neri i sacchi neri nei primi anni 60 non esistevano mi sembra un motivo valido per non andare a vedere il film e dire che è assolutamente inaccettabile però io mi ricordo ad esempio Bologna hanno addirittura verniciato l'asfalto di una strada perché c'erano le piste ciclabili che ovviamente gli anni 60 non esistevano che poi hanno dovuto anche ridipingere è costato un pochino i soldi fare quel film però è divertente è divertente vedere questa ricostruzione degli anni 60 le automobili l'abbigliamento c'è la scena in tribunale quando appunto il giudice condanna diabolica e c'è il pubblico sono una sessantina di persone tutte vestite e pettinate come negli anni 60 compresa mia figlia Nicoletta buffissima con i capelli cotonati vabbè e qui dico è un secondo me il film è stata un'operazione molto attenta e precisa io non so io ne sono uscito soddisfatto certo che si poteva fare meglio ma tutto si può fare meglio anche i fumetti che ogni mese pubblichiamo si potrebbero fare meglio anche i progetti di architettura di architettura anche Lisetta di cui parlavo prima e e comunque è valido bisogna prenderlo per quello che vuole essere cioè un film d'autore non un film popolare con gli effetti speciali e e lo stupore degli inseguimenti certo alla Mission Impossible ecco l'inseguimento c'è ci sono le macchine a polizia d'epoca che inseguono la Jaguar E-Type la mia per inciso no negli inseguimenti no nelle scene tranquille è la mia che ho prestato ma dicendo però i seguimenti li fate con un'altra perché c'è il rischio di sfasciarla infatti hanno fatto della Jaguar E-Type nel film c'è una controfigura è una carrozzeria in fibra di vetro della Jaguar montata su un telaio di una macchina di oggi quindi con le sospensioni il motore e la l'agilità che la Jaguar E-Type del 62 non avrebbe e che tra l'altro nella scena quella iniziale in cui la Jaguar fugge all'inseguimento c'è un trampolino salta sopra il posto di blocco e arriva dall'altra parte che hanno girato qui a Milano dietro il Duomo io c'ero e si è sfasciata quando è atterrata ha sfasciato tutto il muso per cui se fosse stata la mia e me ne avevano infatti senti Mario abbiamo visto scorrere appunto qualche immagine della cartina di Clerville e dello Stato raccontaci questa invenzione di una città che quanti carceri ha quante banche non mi ricordo di noi ma comunque ha sicuramente più carceri più banche più gioiellerie e musei che espongono sempre oggetti di prezioni che non cinema chiese o alberghi è venuto a salutarmi prima uno dei pazzi che a suo tempo hanno montato questa operazione folle perché mi ricordo che venero dicendomi sai abbiamo fatto una ricostruito come come è fatta la città di Clerville poi abbiamo fatto una ricerca di tutte le volte che è citato un ristorante un albergo un museo e mi hanno portato questa raccolta di dati meravigliosa fantastica soltanto se per me non ci sono e il diabolico l'ha chiamato dicevo non so sono rimasto basito di fronte al lavoro certosino che era stato fatto no questo dobbiamo trasformarla in un libro e abbiamo fatto la guida turistica allo stato di Clerville nel formato delle guide del touring con la piantina che si apre con tutte le informazioni impossibili e immaginabili cioè il numero dei radiotaxi e la citazione degli albi in cui queste informazioni appaiono adesso con parte della stessa equipe che fece la follia a suo tempo quanti anni sono passati? 15 15 si Raffa mi reglazano quindi mancano 15 anni di episodi cioè 150 in più quasi se contiamo anche i grandi devoli quasi 200 episodi e quindi bisogna aggiornare questa guida aggiungendo tutti i nuovi radiotaxi alberghi ristoranti e soprattutto gioielleria e magari inserire cosa che mancava nella prima versione la città di Genf perché sono due le location classiche delle storie di Diabolik la città di di Clerville omonima dello stato e Genf che è la città sul mare più o meno una marsiglia della situazione si era anche ipotizzato di fare una cosa tipo il mondo perché Diabolik va spesso all'estero ma in posti che a parte il Sudafrica che era citato nei primi episodi come luogo di origine di Avacant sono tutti nomi di fantasia anche se riconoscibili e si va dalla Cina alle Maldive al Messico a in una storia recente New York e quindi sarebbe bello anche costruire un planisfero così solo che è un tipo di lavoro che soltanto dei pazzi fanatici collezionisti e diabolicofili come come il gruppo di allora può mettere in piedi noi come redazione dovremmo chiudere per un annetto e dedicarci solo a quello beh vedevamo qui scorrere anche visto che abbiamo visto un po' di design molto movimento moderno tra l'altro molto Milano perché abbiamo visto Castiglioni Zanuso poi l'architettura Alvaralto Frank Lloyd Wright quindi il movimento moderno è un po' più esteso diciamo l'ingegneria mettendoci qua un po' di trucchi di quelli che tra l'altro avete fatto varie mostre ma una mostra con questi trucchi presenti la facciamo anche qua al Politecnico nell'altro ed elettorato nel 2011 sì perché in quell'occasione della mostra diabolic in occasione poi del cinquantennale di Diabolic facemmo forse addirittura al quarantennale non mi ricordo più comunque facciamo costruire a un modellista che tra l'altro lavorava al museo di storia naturale lavorava all'epoca al museo di storia naturale dei modellini della Jaguar con i trucchi di Diaboli quindi la Jaguar che cammina su due ruote oppure è su dei trampoli o allarga il il passo in modo da poter superare un ponte cioè tutta una serie di idee che disegnate hanno un aspetto visto in 3D cioè su un oggetto vero e proprio hanno tutt'altro impatto cioè veramente superfacente e poi ricostruivamo anche alcuni oggetti in particolare forse avete visto prima il laser il primo laser usato da Diaboli quando facevamo la mostra qui al Politecnico il rettore disse ma guardando la data ma il laser allora allora era una cosa ipotetica che un laser potesse essere così potente da forare una cassaforte e certo l'ipotesi c'era e naturalmente chissà dove avevano letto qualcosa del genere l'hanno messa gli laser di Diaboli poi appare alla fine ingegneria si vede sembra una mitragliatrice Gatling della guerra di indipendenza americana si si arriva dopo 50 canne e mentre adesso il laser di Diaboli è grosso come un pennarello e ha una un raggio sottilissimo che taglia qualsiasi cosa perché gli anni sono passati e Diaboli è sempre stato per certi versi avanti sulla tecnologia e per altri e per altri io pigio ancora sul freno in particolare sull'elettronica intesa come computer come cellulari come perché perché Diaboli è materico cioè Diaboli è fisico sono fisiche le cose che fa lui lancia il pugnale lui si arrampica lui fa i salti si 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 nasconde l'elettronica facilita troppo la vita certo i computer esistono nel mondo di Diaboli e lui arriva e dice sai ho fatto una ricerca su internet ho scoperto che quella gioielleria ha un diamantone da 300 caratteri però soltanto Castelli con Martin Mister può fare un personaggio che sta delle ore davanti a uno schermo del computer sembra senza farlo sembrare un vecchio pensionato l'incretinito che guarda le soppopera o le tene vendite e quindi noi centelliniamo i cellulari esistono però non sono mai determinanti per lo sviluppo di una storia che poi continua a contare sul suo radio orologio grande invenzione che ha anticipato poi gli attuali cellulari a forma di di swatch e e questa cosa qui è molto importante qualcuno ogni tanto si lamenta dicendo ma Diaboli sembra che viva in un mondo che non è il nostro no Diaboli vive nel nostro mondo Diaboli vive a Milano se vuoi potrebbe essere come diceva lui prima tra di noi anzi io sono Diaboli con un pessimo travestimento ma non se no potremmo fare l'hacker no? cioè cosa fa? ruba i soldi una storia che ho scritto proprio a questo proposito per spiegare l'odio di Diaboli nei confronti dei computer è proprio così cioè Diaboli che all'inizio deve pagare fisicamente comprare una cosa perché l'unico modo per averla perché gli serve per un altro colpo naturalmente e quindi devi trasferire dei soldi elettronicamente da una banca online a un'altra al momento buono trasferire i soldi il suo conto è stato prosciugato da un hacker in copertina Diaboli lancia un pugnale contro un computer perché e la storia se non ricordo male il ladro invisibile del titolo è basato su questo cioè Diaboli a quel punto lo deve ritracciare chi gli ha fregato i soldi a parte che gli è saltato il colpo quindi anche non è di buon umore no? però ha anche una profonda stima perché Diaboli che è un po' come me cioè è un nativo analogico e un tardivo digitale non è che non sappia niente di compito ma che ci pensi qualcun'altro no? la Eva della situazione senti Mario una cosa che abbiamo detto prima Angela e Luciana Giussani quando si tu hai raccontato anche in televisione no? queste due straordinarie figure e la competizione con il marito no? della Luciana di Angela di Angela Gino Sansoni esattamente anche il nome della casa editrice no? si si Gino Sansoni aveva una casa editrice che si chiamava La Storia e quando l'Angela che ha lavorato per La Storia parecchio poi l'Angela faceva la fotomodella ha fatto la modella anche per alcuni libri in particolare uno sulla brava donna di casa edito dalla Storia e quando si è andata e ha fondato la sua casa editrice con la sorella l'ha chiamata Astorina la redazione quando è nata era nella cucina dell'appartamento che ospitava la casa editrice Astoria la cucina perché? perché all'epoca erano queste case signorili un appartamento enorme avevano due ingressi uno che dava nella cucina dove andavano i fornitori no? e infatti c'era il lavandino ancora dove Brenno Fiumali mettava i pennelli me lo ricordo ancora perché io le ho conosciute lì Gino Sansoni era una figura che meriterebbe un film di suo un editore completamente pazzo con delle idee geniali un pelo sullo stomaco segno di una pelliccia di visone lui pubblicava una rivista di umorismo il Bertoldo allora lui andava in Francia comprava riviste su cui tra l'altro illustrò Saul Steinberg a cui è stata dedicata una mostra adesso sì sì assolutamente sul Bertoldo Steinberg quando studiava il Politecnico si laureò il Politecnico disegnò e illustrò alcuni assolutamente c'è anche in mostra in triennale non poterlo vedere sì sì assolutamente e comunque Gino andava a Parigi comprava un po' di riviste di barzellette così portava in Italia fotocopiava e le pubblicava senza pagare diritti a nessuno qual era il problema che la censura in Francia era abbastanza blanda per cui c'erano le donne senza reggiseno eh in Italia invece no quindi dovevano essere cancellati i capezzoli e provvedeva a questo Brenno Fiumali che poi venne prestato alle Giussani e fu il dissenatore della prima copertina numero uno di Diabolico e che Castelli io chiamavamo Capezzolink perché la sua attività principale era quella di ritoccare le vignette prima che apparissero sul Bertone ma lui era tra l'altro tifoso milanista infatti lei cosa fece con Gino? ah beh sì lui era l'editore di Forza Milan e quando la Lancia litigò con Gino poi si separarono divorziarono anche fu il primo caso di divorzio in cui fu la donna a pagare gli alimenti al marito per inciso diede a Ginko la cravatta rossonera perché Ginko era un perdente Ginko è l'ispettore e da allora ancora adesso il Ginko ha la cravatta rossonera e quando i milanisti si lamentano dico sì però diabolica ha la tuta nera e blu per cui per favore interisti cos'altro volevo dire? ah sì Gino no c'è un eredito di Gino Sansoni che è come dire emblematico del personaggio a un certo punto un signore e qui adesso mi scuse il nome tentò di suicidarsi nel Duomo di Milano sparandosi e sbagliando mila per cui si è portato via un po' di capelli una cosa che si scandalo ovviamente perché un tentato di suicidio in un Duomo l'uomo viene sconsacrato potrebbe venire il vescovo e riconsacrato Gino Sansoni si fionda in ospedale al policlinico e fa firmare a questo tizio una liberatoria per il suo diario per la sua vita e quindi poi pubblica questo diario che si chiamava La vita di un povero Cristo che vende credo cinque copie frega niente a nessuno allora cosa fa Gino? prende le copie di resa ricopertina le copie con una foto in bianco e nero di una donna vagamente succinta a questo aveva vissuto Parigi fino al giorno prima questo signore e fa un'edizione che si chiama Parigi nuda e va gli interni uguali c'è sempre la stessa strada poi arriva alle resa anche di questo allora cosa fa? inserisce dentro delle fotografie in bianco e nero sempre di donne succinte sempre prese da riviste francesi senza pagare diritti poi prende Brenno con un trapano verticale e fa bucare tutte le copie ci infila dentro uno spago e un piombo sai di quelli che si usavano una volta per chiudere? e mette un'etichetta sopra con scritto edizione limitata senza censure è andata a ruba è andata a ruba anche perché una volta che uno aveva tagliato la corda non poteva più portarla indietro perché ecco un po' di aneddoti di questo mondo che tra l'altro discutevamo con Mario del fatto che quest'estate sono stato con Peppino Palumbo che è uno dei loro grandi disegnatori al festival della filosofia ischia e noi abbiamo inaugurato una scultura fatta da Kengo Kuma che è la riduzione del museo dei manga a Musashino a Tokyo che guardatelo è straordinario un museo tutto in granito fuori che alleggia su uno specchio d'acqua e dentro è sembra Miyazaki e allora mi dicevo in Italia manca un po' un luogo così e noi abbiamo dei fumetti insomma storici degli autori stori del binari Sì, in effetti c'è stato un tentativo a Lucca che aveva fatto il museo del fumetto che poi è fallito miseramente ma è fallito perché i problemi in Italia credo per tutte le iniziative quando ci sono di mezzo le autorità e le strutture comunali provinciali e regionali si creano non so come dire delle gelosie degli attriti delle raccomandazioni che bloccano tutto cioè il museo di Lucca era veramente bellino e poteva diventare una cosa bella ed difficile perché Lucca è ancora la capitale dell'evento Lucca Comics diciamo che ce ne sono anche altri c'è Napoli mi sembra importante giusto? ma pensa che non sono mai riusciti in tutti gli anni in cui il museo del fumetto era aperto a mettersi d'accordo in modo che se uno comprava i biglietti per andare a Lucca Comics avesse uno sfonto per andare a visitare il museo e viceversa distanza tra il padiglione della fiera del fumetto e il museo 200 metri forse anche meno Raffa farei un applauso a Mario Gomboli